A secondo giorno di ripartenza molto sembra tornare come prima il traffico, il via vai di gente in giro, negozi, ristoranti, bar, parrucchiere ed estetisti aperti, mezzi pubblici pochi e intasati, a Roma per esempio. Intanto gli esercizi commerciali dai negozi di abbigliamento a quelli di calzature, dai parrucchieri e centri estetici, ma anche ristoranti, bistro, tutti si adoperano a predisporre la sanificazione dei locali e a distribuire gel, igienizzanti, mascherine e guanti, anche se restano le difficoltà nel reperire con facilità il materiale previsto dalle normative. Personale ridotto nei negozi poiché il 40% dei dipendenti è rimasto a casa. In Veneto intanto arrivano segnalazioni di movida per gli aperitivi a cielo aperto, tanto che il governatore Zaia ha precisato che c'è il divieto di assembramenti e l'uso della mascherina e minaccia una nuova stretta. Dal Veneto alla Sicilia i problemi sono sempre quelli, anche il sindaco di Palermo, Orlando, minaccia chiusure e regole più drastiche in alcune zone della città. Bisogna finirla, dice di fare passeggiati inutili tutti nella stessa strada perché così facendo si creano le condizioni che costringeranno le forze dell'ordine a disporre la chiusura dei negozi. Ma la fase 2 porta con sé da Milano-Roma anche un aumento dei prezzi. Alcuni locali hanno deciso che per tentare di recuperare quanto perso durante il lockdown occorre se ritoccare magari il prezzo del caffè. Ritocchi anche per molti parrucchieri con taglio colore messa in piega e si temono rincari anche per quanto riguarda abbigliamento e ristoranti. Anche se il versante che più preoccupa è quella alimentare dove già nel mese di aprile l'Istat aveva registrato un aumento medio dei prezzi del cibo del 2,8 per cento e stando ai dati del Codacons la fase 2 si rivelerà una stangata per le famiglie pari a 536 euro.